Un anno per restituire alla città di Lucca un hotel di prestigio è entrato nel vivo in queste ore il cantiere dei lavori di ristrutturazione dell'hotel Universo, destinato a diventare Grand Universe Lucca. Si tratta in verità di un intervento propedeutico all'inizio del restauro vero e proprio. In particolare è stata costruita la base in cemento su cui nei prossimi giorni verrà montata la gru montacarichi. L'intero cantiere sarà coperto da pannelli in modo da disturbare il meno possibile lo scorcio di Piazza del Giglio. L'intervento di ristrutturazione comincerà dal tetto. Una volta terminata la nuova copertura, i lavori si sposteranno agli impianti e a tutti gli interni. Il progetto, parliamo di circa 15 milioni di euro, prevede il termine dei lavori e l'apertura delle porte del 4 Stelle Superior entro la fine del prossimo anno. Grazie. Grazie.